benvenuti in un nuovo video di quadricottero news oggi grande novità che è stata presentata ieri dalla potensic si tratta del nuovo atom nuovo drone c0 quindi sotto i 250 grammi stiamo vedendo l'unboxing della versione fly more combo con il nuovo atom potensi che va a sfidare dji in particolare la versione dji mini 2s ci sono due versioni la versione standard è la versione fly more combo del potensic atom abbiamo appena visto come scaricare l'app di gestione che è questa sembra completa c'è anche il volo a white point il radiocomando assomiglia molto a quello del x8 mini della fimi e l'atom somiglia al mini 2 in particolare per il tasto di accensione e i led che indicano lo stato di carica della batteria vediamo anche che ci sono due sensori infrarossi è una piccola telecamerina per il posizionamento quando mancano i segnali gps e comunque quando si trova entro 10 15 metri di altezza e come il dji mini è pratico da portare dietro sta sia ognuna tasca sia nella pratica borsetta come stiamo vedendo eccolo qua è il successore dell'atom se con una importante novità migliorativa ovvero il gimbal camera che stabilizza meccanicamente su tre assi registra fino a 4k 30 fps sensore 12 megapixel apertura f 2.2 come abbiamo appena visto stabilizzazione su tre assi meccanica e c'è una nuova modalità di trasmissione che gli fa raggiungere fino a 6 chilometri con 20 dbm quindi 100 mw sulla 2.4 quale modalità intelligenti ci abbiamo l'activ track l'equivalente dell'activ track e varie modalità smart ci sono i quick shot miglioramento anche sul ricevitore gps adesso viene utilizzato un modulo ublox riceve quattro costellazioni gps glonas beidu cinese e galileo europeo da questa breve clip sembra stabilizzare bene ma da verificare e resiste a un vento di livello 5 come i droni della classe dji mini insomma vederlo così sembra un bel prodottino queste sono sempre immagini dichiarate provenienti dal drone e anche se dura combattere contro dji per quanto riguarda i prezzi potrebbe essere interessante sicuramente è un bel miglioramento rispetto all'atom se soprattutto per la presenza del gimbal che stabilizza su tre assi queste sono le specifiche tecniche vediamo che purtroppo ha un sensore un po piccolo perché è da un terzo però rispetto ad esempio al suo diretto concorrente mini 2 se registra a 4k mentre mini 2 se registra a 2,7k buono il fatto che scatta anche foto dng e la frequenza di funzionamento è a 2,4 gigahertz però con questo miglioramento sul protocollo che estende il range fino a 6 chilometri tuttavia vediamo che c'è l'altezza massima di volo di 120 metri un bel indizio cosa vuol dire questo indizio chi ha seguito i video precedenti sa bene cosa significa questa cosa soprattutto 120 metri rispetto al punto di decollo e il motivo è questo riportato alla fine del manuale utente questo simbolo qua indica che ha la marcatura di classe c0 significa che chi compra questo drone potrà sempre utilizzarlo come oggi ovvero con sorvolo di persone non informate anche in scenari urbani se la zona geografica us lo permette anche nel 2024 e oltre perché appunto è già compliante con il regolamento europeo droni completo per quanto riguarda i prezzi ci sono due versioni questa è la versione standard con una batteria e viene venduta a 319 euro il mini 2 se di listino viene venduto a 359 euro versione standard e questa è la versione fly more combo che contiene tre batterie più eliche e il caricatore multiplo e la borsetta e viene venduto a 420 euro meno un centesimo in effetti anche prima non è 319 euro ma praticamente 320 euro quindi versione semplice 320 euro fly more combo 420 euro per confronto il mini 2 se fly more combo costa 499 euro quindi con l'atom si risparmiano 79 euro insomma sulla carta e da quello che stiamo vedendo può essere una buona alternativa entry level ai droni entry level dji rispetto al mini 2 se è vero che ha un sensore più piccolo leggermente più piccolo però ha delle funzionalità in più come ad esempio il volo a waypoint inoltre registra a 4k contro i 2,7k del mini 2 se e non ha le zone geo ovvero le no fly zone che dji integra nelle sue mappe e che spesso non coincidono con le mappe ufficiali che dobbiamo consultare su di flight per capire se la zona geografica in cui stiamo volando è premessa o meno ricapitolando questo è un drone c0 stando al simbolo riportato sul manuale può essere condotto senza patentino può sorvolare persone non informate non bisogna sorvolare assembramenti sul drone ci deve essere applicato il qr code e registrazione operatore oas che si fa su di flight prima di portarlo in volo dobbiamo consultare le zone geografiche os sulla mappa del sito di flight vi ricordo che i droni c0 non hanno un'età minima possono essere condotti a qualsiasi età ovviamente se il pilota è piccolo è sempre consigliabile che venga affiancato da un adulto comunque da un ragazzo di 16 o più anni e che magari abbia anche il cosiddetto patentino a 1 a 3 però non è obbligatorio è forse per questo che i droni c0 vengono limitati a 120 metri rispetto al punto di decollo e voi cosa ne pensate di questo nuovo drone c0 fatemelo sapere nei commenti anche in relazione al prezzo le prestazioni sulla carta come ho detto sembrano buone e quindi secondo me può avere un senso sia come primo drone per imparare a pilotare per entrare in questo mondo ma anche per divertimento spendendo poco oppure da regalare senza fare brutte figure per quanto riguarda l'acquisto a breve dovrebbe essere anche su amazon italia è già presente su amazon all'estero amazon francia e amazon germania mi pare e sul sito ufficiale a questo punto direi che è tutto vi invito ad iscrivervi al canale se non avete ancora fatto così mi darete una mano e vi saluto buona continuazione e al prossimo video con quadricottero news